L'8 e il 9 aprile torna l'Open Day dei Teatri, iniziativa dal titolo A Scena Aperta, promossa dall'Istituto Beni Culturali per la valorizzazione e la conoscenza dei teatri storici diffusi sul territorio regionale e oggetto nel tempo di numerosi progetti di censimento e catalogazione e sono 34 i teatri che aderiscono all'iniziativa con visite guidate, concerti e spettacoli, molti dei quali ispirati all'opera di Luigi Pirandello nel 150esimo anniversario della nascita. Le iniziative sono ingresso gratuito, previa prenotazione. Vi aspettiamo numerosi! Grazie a tutti!